ct non you inizia ufficialmente la giornata di festa e di direttore di poliradio andrea evangelista mattio virelli emanuele campagnolo kit e andrea maioli che ci che ci fanno compagnia in questa ora in cui saremo conduttori per un po' per gioco perché non siamo in grado ciao ragazzi come state parlati uno alla volta mi raccomando hai già detto troppe parole di fila io volevo entrare due tre volte ti ho iniziato a parlare rapidissimo ok tu hai parlato adesso tocca a lui chi è chi sono chi sei non lo so non lo so neanche oggi ha una maglietta bella oggi però possiamo dire che eri in diretta ieri sera e quindi sei un po di casa qui è l'uomo di casa emanuele campagnolo ciao e ma ciao ragazzi come stai come stai sei stanco e dormito molto è dove diciamo che dovevi andare saresti dovuto andare in diretta alle 10 questa mattina su poliradio in teoria è cosa e invece c'era principe d'egitto effettivamente effettivamente è giusto cioè capito tu ti svedi la mattina per andare a lavoro però però lui può lui può perché assieme ad abdul è colui che ha costruito questa radio abdul era il muratore lui invece quello che ha non era il principe d'egitto abdul c'erano le spingi qua fuori ma non è vero tanto tempo fa ai tempi degli antichi possiamo dire che le spingi sono i vecchi di poliradio che forse oggi ci passeranno a salutare ma ci dai delucidazioni su questo anticipazioni non è billo l'unico vecchio a quanto pare no billo è il nuovo vecchio ah ok cioè è nuovo però è già vecchio capito è già una spingi diventerà come me tra dieci anni no non si augura lungo non si augura nessuno esatto ciao kit come stai apriti il microfono e di qualcosa ciao ok c'è maioli che da dietro controlla tutto davvero direttore dei sistemi informatici ciao andrea ciao ci sono le ragazze che ci guardano fuori come se possiamo le poliradine come si potrebbe dire le cheerleader è bello le cheerleader di poliradio ciao a chiara e ciao non mi ricordo il tuo nome perdonami maioli se vuoi fare una persona orribile federica scusate federica e chiara che ci stanno guardando e ascoltando purtroppo per loro da fuori e ridendo e ridendo male per il mio profilo secondo me inizia una grande giornata esatto ma dacci queste anticipazioni non ce le hai date io non so chi verrà oggi lui non lo so lui si è svegliato stamattina senza cioè si sta chiedendo chi sono il problema è che è stata fatta una chat di facebook globale diciamo esatto e c'è gente che ha scritto si vengono non vengo che ci sono però non hanno detto vengo a quest'ora vengo non vengo motivo per cui andranno in onda i programmi nuovi questo quest'anno anziché i programmi vecchi e se non sapete come vedere il profilo di evangelista stiamo filmando oltre che essere già in diretta web frontale stiamo filmando meno male meno male ma riesci a prenderlo tutto è una è una gopro per fortuna a grand'angolo hanno inventato le gopro appositamente per le persone con il naso quindi te lo fa un po più largo no anche questa no partiamo con un po di musica che stiamo già dicendo troppe cazzate ci andiamo ad ascoltare qualcosa qualcosa che è nell'aria che la sto già ascoltando però non la conosco ma si la conosco non sapevo che fosse sua e ma istambul guarda che mondo di barsi cioè c'è qui c'è un mammucari c'è un mammucari io non ho profilo è principe d'egitto non sei tu il principe d'egitto non sei tu il principe d'egitto vabbè basta c'è il kit che si fa ampiamente i cavoli suoi noi ci sentiamo troppo più in diretta direi non è un po' non è un po' non è un po'